In occasione della giornata del pensiero istituita da Lord Baden Powell, fondatore degli Scout, il gruppo Isernia 1 ha festeggiato il suo cinquantennale. Un'intera giornata di festa e nella circostanza al gruppo Isernia 1 è stato consegnato il defibrillatore pediatrico acquistato dagli organizzatori del concerto di beneficenza dedicato ad un altro cinquantennale, quello dei Black Sabbath. Ci fa piacere, Carmela ha voluto scegliere questa giornata perché per voi era una delle giornate più importanti per gli Scout. L'incasso della serata, come preannunciato a suo tempo dagli organizzatori, è stato così utilizzato per dotare gli Scout di Isernia 1 di una fondamentale apparecchiatura salvavita che verrà portata a corredo delle attrezzature da campo nelle loro frequenti escursioni. Tutti quanti, sia noi adulti che voi ragazzi, dobbiamo cercare di imparare il funzionamento, ve lo insegneremo, chiameremo anche chi ne sa molto più di noi. Chiaramente il defibrillatore non è una semplice apparecchiatura medica, ha bisogno di essere utilizzato correttamente, specie per bambini e ragazzi. Per questo quello donato agli Scout è dotato di due tipi di piastre, per i più piccoli e per i più grandi. Ma occorrerà fare dei corsi di formazione, come spiega il medico degli Scout di Isernia. Volevo specificare solo una cosa, è vero che lo possono utilizzare tutti, ma tutti quelli dotati di un particolare attestato che viene rilasciato dopo il superamento di un corso. Infine gli Scout hanno ringraziato gli organizzatori del concerto di beneficenza con il loro tipico applauso, con l'urlo finale.